Buongiorno, sono Mario Rizzo, sono 30 anni che mi occupo della vendita e realizzazione di studio dentoiatrici, vendo attrezzature e ho tre anni che distribuisco per la Lombardia il prestigioso marchio Sirona. Io immagino che tutti i conosciati di prodotti Sirona, che variano dai riuniti ai panoramici, alla strumentazione, all'impronta ottica, al CAD CAM, è inutile che vi dica che Sirona è l'azienda più prestigiosa e più tecnologica al mondo, è abbinato a SIECO che distribuiamo per la Lombardia, stiamo raggiungendo dei risultati esaltanti anche in questi momenti difficili. Ora siamo presenti all'Expo Dental dove stiamo presentando 3D, un apparecchio di radiologia molto interessante, abbiamo un nuovo riunito in Tego, abbiamo il nostro laser, l'impronta digitale Apollo che è una novità, che ha un prezzo ragionevole, che si può abbinare a SEREC, dopodiché abbiamo tutta la strumentazione, se volete saperne di più su SIECO, distributore Sirona, noi abbiamo un sito che si chiama SIECO Dental dove potrete avere tutte le informazioni che vi interessano. Grazie a tutti.